A proposito di pallone d'oro, potete anche scriverci, quale fu, quale è stato il vostro pallone d'oro juventino del cuore, quello di cui andare più fieri, quello da posterone in camera, magari anche passato, anche più vecchi della nostra età, c'è un pallone d'oro che abbia assegnato, un pallone d'oro vinto da uno juventino che secondo voi rappresenti meglio l'epica juventina? Ma per me Baggio. Ecco la Juve secondo me sarà brava a prendere un giocatore. I problemi caratteriali di dare un capello al Milan e invece Lippi riuscì a gestirlo meravigliosamente. Allora, passiamo un po' alla grafica pro e contro, abbiamo pochissimi secondi però volevo farla vedere. I pro e contro di questa fase della Juve, ve li regaliamo prima di salutarvi, poi ci saranno anche i saluti. I pro, capacità di reazione che comunque affiora sempre nella squadra, sia che vada sotto, tipo Coppa Italia, sia che vada sopra, più tre comunque in classifica, l'avremmo forse firmato tutti quanti, le seconde si tolgono comunque dei punti, quando le competitor sono più di una è meglio per chi sta davanti, ancora in lotta su tre fronti. Che è un pro e contro questo. Adesso attenzione, sorpresa, mi hai rubato il giochino e il gioco che sta diventando a memoria. Perché è vero, si dice, la Juve non è quella dell'anno scorso, non potrebbe essere quella dell'anno scorso, se no le lingue come nei cartoni animati dei giocatori arriverebbero a leccare l'erba sintetica e non. Però giocano più a memoria i ragazzi, assenza di un Chiellini e di una Samoa palese. Ultra a Parma, manca un frombogliere, seconde linee non sempre all'altezza e è appunto ancora in lotta su tre fronti. Ma la Juve vuole andare a vincerle tutte le manifestazioni, non tiriamo indietro il piedino da nessuna parte. Non sarebbe la Juventus? Adesso contro la Lazio è un bel campionato, un bella coppa Italia, una bella sfida questa. Ma anche perché, se posso prendere una parentesi velocissima, sulla Lazio è stata un'ottima scelta quella di portare a Roma un allenatore come Petrovic che sta lavorando molto bene, è uno dei pochi allenatori che in Italia riesce a dare un gioco a una squadra, un'organizzazione di gioco della Lazio molto molto interessante e anche piacevole da vedere. E sta facendo bene con una squadra che non è uno squadrone, tra le altre cose. Spero per loro che arrivi Lampard, io lo dico sinceramente, perché se arriva Lampard si rompe il giocatore, quindi un avversario in meno per la Juventus. Sono assolutamente d'accordo. Vittorio Gesso, Luigi Guelli...